Un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando attraverso la nostra pagina di Facebook, a chi ci sta guardando attraverso il nostro canale di YouTube, dei nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura di oggi del quotidiano Il Gazzettino di Belluno. Ma come sempre, prima di iniziare, leggiamo assieme la frase del giorno per quanto riguarda la giornata di oggi, ovvero di mercoledì 15 gennaio 2020. A volte l'unica cosa che ti può mettere per star meglio è l'anima in pace. E con questa citazione addentriamoci nella lettura di oggi del Gazzettino di Belluno, diamo subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. Spazio alla situazione della stagione invernale in provincia di Belluno per quanto riguarda ovviamente il mondo degli sci. Sci è la stagione dei record, questo è il titolo. La migliore è di sempre, così gli impiantisti commentano i dati relativi alle ultime vacanze. In tutti i comprensori, sia incassi che passaggi, segnano aumenti vistosi. Si arriva anche al 30%. Il servizio lo troveremo a pagina 3 a firma di Ciprian. La foto della prima pagina è invece dedicata a Feltre, provocatoria protesta ieri dell'ottico Fertonani. Centro vuoto chiude per protesta contro la chiusura del centro alle auto per Paolo Fertonani, ottico di via 31 ottobre, ha ucciso la piazza. Così ha chiuso il negozio per due ore di protesta. Notizie di spalla, Franceschi assolto ma sull'innocenza non c'erano prove, così la Cassazione motiva la sentenza per l'ex sindaco. La prescrizione lo salva. E ancora multa per la targa straniera, il giudice la cancella. Multe ai gelatieri Zoldani con auto tedesche sarebbe discriminazione. In 12 pagine di sentenza, il giudice di pace di Belluno Fabrizio Schioppa ha risolto la questione delle targhe stranieri dei lavoratori stagionali che rientrano in patria sulla loro vettura immatricolata in Germania. Falcade, parocchiani immobilitati per salvare la loro chiesa. Belluno, irregolarità al poligono, condannate il presidente. E a questo punto iniziamo a leggere l'edizione di oggi, quindi del Gazzettino. Un'edizione che si apre con un titolo dedicato alle sfide del commercio. Mister Famila disegna il futuro dell'ex Comedil. Siamo in provincia di Belluno, siamo nel comune di Ponte, nelle Alpi. Marcello Cestaro anticipa le intenzioni per l'aria. Il supermarket andrà nella nuova sede più grande. L'attuale stabile lascerà spazio a un negozio di scarpe, di abbigliamento o di elettronica. Aumentando la superficie, aumenterà anche il personale. Assumeremo 15 persone in più delle 33 che sono già presenti. Un secondo lotto sarà occupato dal negozio Eurobrico, che ora si trova davanti all'Iper Dolomiti. Dal comune, Vendramini soddisfatto, cementificazione evitata. Attualmente noi come comune non abbiamo certezze circa la destinazione dei tre lotti dell'ex area Comedil. Appena le avremo, organizzeremo un incontro pubblico per informare la popolazione e dire chiaramente come sarà il futuro dell'intera zona. Il sindaco di Ponte, nelle Alpi, Paolo Vendramini, non entra nel merito circa l'area ex Comedil. E adesso la notizia che ha aperto questa edizione del Gazzettino di Belluno. Vacanze con i Fiocchi, piste piene mai come quest'anno. In tutti i comprensori, in pennata di incassi e di presenza, gli impiantisti confermano stagione migliore di sempre. Le nevicate di novembre e dicembre e il meteo favorevole delle ultime settimane rappresentano un vero mix vincente. Una stagione scistica da record che potrebbe essere la migliore di sempre. Il primo bilancio dopo le vacanze di Natale è ampiamente positivo in tutti i comprensori belonesi del Dolomiti su Peschi, dove gli impianti girano a pieno regime e si sfiora al 100% di piste aperte, inclusi i collegamenti tra le vallate. Le abbondanti nevicate di novembre e l'attuale lungo periodo di bel tempo rappresentano un mix vincente che gli impiantisti sono felici di sfruttare. In aperto i nuovi collegamenti, il fermè e il fermento per i grandi eventi hanno richiamato il 25% in più di ospiti. Nelle prealpi resta al palo solo il nevegale, in funzione il campetto scuola ferma la seggiovia. E a proposito di stagione invernale, Gedo, ambasciatore entusiasta a cui si è formata una bella squadra. Cristian Ghedina sottolinea l'importanza dei nuovi percorsi e il clima che sta vivendo il paese, azzeccato e restyling della Lacedelli. Cambi di pendenza molto divertenti e sempre piena. Pagina 5 del Gazzettino, nuova gestione del gas, gli aumenti irrisori per il sindaco di Borca Bortolo Sala. L'incremento annuo in bolletta si limiterebbe a un ininfluente 0,011%. Il calcolo va diluito sull'intero ambito territoriale della distribuzione e quindi avanti tutta con la rivalutazione. Altre notizie flash da questa pagina del Gazzettino. Gasperina tranquillizza gruppi e comuni. Abbiamo mezzi, strutture e contributi. Questo per quanto riguarda la protezione civile. E per quanto riguarda un fatto di cronaca, irregolarità al poligono condannate il presidente. Chiesto un mese per l'ex presidente del tiro Ponte Alpino. Dopo sette anni, da quando scoppiò il caso con una lettera anonima, non è finito nemmeno ieri il processo per le presunte irregolarità nei registri di carico e scarico munizioni tenuti dall'allora presidente del poligono di tiro Utis di Ponte nelle Alpi. Condannateli a un mese di reclusione. Ciascuno ha detto il PM nelle sue conclusioni. Alla sbarra Francesco Fabris, tenente degli Alpini in pensione, 65 anni di Santa Giustina nella sua qualità di presidente del poligono. E Sebastiano ha trovato settantenne. Dopo la richiesta di condanna e le ringhe dei difensori, avvocati Mario Mazzoccoli e Vincenzo De Gaetano, c'è stato il rinvio per la sentenza al 4 di febbraio. Tutto iniziò nel 2013 con una lettera anonima inviata alle autorità per alcune nuove politiche del gruppo. Un'altra notizia di spalla, sensibilità per l'ambiente. Studenti del Regnier premiati. Due classi terzi hanno dedicato due giornate del Friday for Future a ripulire la città. Oggi la cerimonia. E una notizia invece che riguarda l'associazione belonesi nel mondo e principalmente la biblioteca. Biblioteca civica chiusa, l'ABM offre la propria. Non solo la Fondazione Angelini Isbre che liberia Tarantola, anche la Biblioteca delle Migrazioni Dino Buzzati apre le porte agli studenti rimasti senza la loro crepadona. Darne notizie è proprio l'associazione belonesi nel mondo all'indomani dell'annuncio da parte dell'assessore alla cultura Marco Perali e del direttore del servizio Giovanni Grazioli degli 80 posti lettura e studio disponibili nei tre spazi. Alla Biblioteca civica infatti sono iniziati i lavori per la sua trasformazione in Mediateca delle Dolomiti e gli utenti sono stati costretti a traslocare. Nell'attesa dell'allestimento del servizio provvisorio a Palazzo Bembo i tre soggetti hanno messo a disposizione i loro spazi. Ora a questi tre si aggiunge l'ABM e lo fa con grande entusiasmo. Abbiamo saputo della situazione che sta vivendo la Biblioteca civica e di come l'assessore Perale abbia comunicato che come aule di lettura siano disponibili quelle dell'Isbre che della Fondazione Angelini e della Liberia Tarantola dichiara il presidente ABM Oscar De Bona. Aggiungo che a Belluno è attiva da 2005 anche la Biblioteca delle Immigrazioni di Nobuzzati con la propria sala lettura aperta da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 alle 15 alle 18.00. Una biblioteca che offre oltre al servizio di interprestito wifi gratuito e la possibilità di fare fotocopie in un ambiente silenzioso e consono per lo studio. Una realtà posizionata a 100 metri dal piazzale della stazione dei treni e quindi comoda da raggiungere. Segnalo quindi al Comune, conclude De Bona, che anche la nostra biblioteca può supportare la criticità che sta subendo la biblioteca civica di Belluno. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito www.belonesinelmundo.it Pagina 6, Feltre, mima di sgozzarla, ci pensa Allah. Ieri in aula il racconto dell'incubo vissuto dalla tabaccaia della Cugliada sarebbe stata perseguitata da un marocchino. La negoziante, il padre e i clienti avrebbero avuto anche a che fare con le minacce del 32enne che avrebbe reso la vita impossibile. Sempre da Feltre, centro deserto, l'ottico chiude il negozio per protesta di questa notizia. Ne abbiamo parlato come richiamo presente nella prima patina di questa edizione del Gazzettino. Rimaniamo invece a Feltre e parliamo di sanità. L'ospedale diventa più sicuro, l'USL punta sull'antisismica. Il progetto interessa il collegamento tra i padiglioni Dalla Palma e Gaggia. Costo dell'intervento un milione di euro. Prossima tappa i reparti delle chirurgie. Notizia anche da San Gregorio nelle Alpi. Brucia Ramaglie nel campo muletato. Tato e da Seren del Grappa, anzi da Feltre, scusate i contributi ai comuni, denaro. Dai canoni idrici saranno divisi tra i vari municipi 650 mila euro. L'assessore dell'Unione Montana Feltrina Dario Scopelle serviranno in particolar modo per sistemazioni idrogeologiche. Ancora da Feltrino a Fonzaso ritorna la rassegna teatrale e organizza la proloco. Il cartellone ci sono cinque spettacoli tutti in sala Luciani. Da Fonzaso a Darsieri prendono i lavori in galleria e è stato chiuso il tunnel Brenta. E adesso notizie da Borgo Valbelluna, perseguitato dagli animalisti esposti a raffica mai infondati. Il dottor Giorgio Capraro nel mirino dell'Enpa per i suoi due amati setter lunedì. A tre che hanno l'ennesimo blitz dei veterinari. Questi cani stanno bene. Ancora da Borgo Valbelluna, gestione della casa di soggiorno. Alla Valbelluna, grazie a noi, l'ex sindaco Vello rivendica la gestione diretta della struttura. E ancora da Borgo Valbelluna a parlare col sindaco, un'impresa impossibile. Un'impresa impossibile le critiche sulle modalità da solista del sindaco Stefano Cesa da parte dell'ex primo cittadino di Tricchiana, Fiorenza da Canal, che si è pentita della fusione. Hanno dato là lo sfogo anche di alcuni cittadini di Borgo Valbelluna, in particolare i tricchianesi. Nel mirino le difficoltà ad avere un colloquio con il primo cittadino Cesa, che alle volte sembra irraggiungibile, ma anche le difficoltà a dover rivolgersi a dei funzionari che sono itineranti tra i vari ex municipi con orari e giornate di ricevimento che per ricordarseli serve un'agenda 2.0. Passiamo adesso alla Gordino. Siamo a pagina 14 del gazzettino di Belluno. Il CAI a lavoro sui sentieri ancora devastati da vaia. Continua senza sosta l'impegno dei soci della sezione nella pulizia della montagna. Nel 2019 i volontari hanno operato per più di 1.600 ore tra 44 percorsi. A Agordo, Mr. Dinamite torna alla sua vecchia scuola. Sabato al Folador ci sarà l'incontro con Danilo Coppe. Mr. Dinamite torna nella sua Agordo, quel paese che lo vide diplomato all'Istituto Minerario Umberto Folador e che in qualche modo lo lasciò alla ribalta delle cronache. Falcada, restauro della chiesa di San Sebastiano, nasce il Comitato dei Parrocchiani. Il gruppo ha predisposto alcune iniziative che serviranno per raccogliere i contributi. E adesso passiamo a Cortina. Non ci sono prove di innocenza cancellata solo perché il reato è prescritto. La condanna all'ex sindaco Andrea Franceschi e a Pompanini e a Sartori nelle motivazioni della Cassazione pubblicate ieri si ritiene ben ricostruita e anche ancorata scusate a prove la vicenda collusiva. Non sono riscontrabili elementi a giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza degli imputati Andrea Franceschi, Enrico Pompanini e Teodoro Sartori impossibile a solvere nel merito l'ex sindaco di Andrea Franceschi, il suo vice di allora Pompanini e l'imprenditore Sartori per il presunto appalto pilotato rifiuti. Le carte, le testimonianze e la sentenza di secondo grado non dava spirali per dichiarare innocenti a pesare ironia della sorta secondo i giudici, in particolare la testimonianza di Gian Pietro Ghedina che poi diventerà sindaco. A quel punto la Corte di Cassazione non ha potuto che dichiarare la prescrizione del reato. È così che è finito il processo O Franceschi 1 che scoppiò proprio con l'arresto dell'allora primo cittadino il 24 aprile 2013 esiliato dalla sua Cortina. Rimaniamo a Cortina, Paralimpiadi 2026, Correnè Cortina ci crede e un'altra notizia di spalle che riguarda sempre la conca delle Dolomiti, l'appello Union Ladis, siate generosi. Siamo a Santo Stefano, zona comelico della provincia di Belluno, provincia fuori da Dolomiti Unesco, la proposta provocatoria durante il consiglio a Santo Stefano ad avanzarla è stato il consigliere e sindaco Svalutoferro. La montagna è un paesaggio culturale, il contrario della salvaggità lasciata a sé e alle dinamiche naturali. Come previsto, il voto sulla decisione di ricorrere contro i vincoli è stata unanime. Ianese, presidente dell'Unione Montana e il comelico, commenta siamo contrari alle imposizioni, lo Stato farebbe meglio a riconoscerci come zona franca. E da pieve di Cadore l'affitto dell'ex casa di riposo porta soldi per quella nuova. Siamo arrivati alle notizie di carattere sportivo, pagina 17 del Gazzettino. Incominciamo con il mondo dell'hockey, Cortina cede in casa ai rigori, si complica la corsa play-off. Come già capitato con altre squadre meno attrezzate, l'Afro non gioca come servirebbe. Ampezzani sempre in affanno, magro al bottino di un solo punto per restare nella scia delle prime. 4-5 tra Afro Cortina e Vienna Capitals. Passiamo all'agenda e spettacoli del Gazzettino. Lo Zibaldone scolastico è il calendario 2020 realizzato da Bepi Pellegrinon, oltre un secolo di aule e grembiuli, maestri e scolari del tempo che fu. Zibaldone scolastico, con questo titolo esce il terzo calendario storico-tematico curato da Bepi Pellegrinon, dedicato alla storia scolastica di Falcade. Teatro, l'altra storia di Otello con le bretelle lasche. Le bretelle lasche presentano il quinto spettacolo della rassegna Tinnifoli 2019-2020. In un tourbillon di situazioni paradossali, comiche e fino al grottesco, i tre attori si presentano al pubblico con continui cambi di scena, con stumi e registri attoriali. Per maggiori informazioni andate a visitare la pagina Facebook delle bretelle lasche. Ancora dall'agenda, due corsi per diventare esperti di vino con l'AIS. L'associazione italiana Sommelier organizza a Belluno due corsi per formare i nuovi esperti di vino. E per quanto riguarda la musica, succede a Castione, la musica sale sul palco. Doppio appuntamento sabato con l'epopea intramontabile del Rocche e il primo febbraio con brani legate alle due guerre. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito della Proloco di Castione. E con questa notizia termina l'edizione di oggi di Edicola Belluno, un'edizione come sempre dedicata alla lettura del Gazzettino di Belluno. Prima di salutarvi leggiamo assieme le previsioni del meteo in Veneto per la giornata di domani. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salve foschie sulle zone di Pianura. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera a partire dalle 20. domani mattina a partire dall'una ora locale italiana. Potete ascoltarci attraverso il nostro link www.berunesi nel mondo.it slash radio trattino abm o direttamente attraverso la nostra app Radio ABM che potete scaricare gratuitamente, ripeto gratuitamente, dal vostro smartphone tablet. In questo modo potrete stare sempre in compagnia con la nostra web radio. È davvero tutto per Edicola Belluno. Buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM Voce delle Dolomiti. Grazie.